È partito ufficialmente l'OPA, l'offerta di pubblico acquisto delle azioni della vecchia cassa di risparmio di Cesena, ora in mano al gruppo francese Credi Agricol. I possessori dei vecchi titoli avranno tempo fino al 18 maggio per decidere se accettare la proposta fatta dalla banca così come è stato illustrato nel contro organizzato dalla nuova gestione. Un'offerta, quella di Credi Agricol, che ha trovato una forte opposizione da parte di molti di quei piccoli azionisti, i cui titoli fino a poco tempo fa detenevano un certo valore e che ora invece subiranno una perdita che in alcuni casi può arrivare anche al 97%, una proposta giudicata e ricevibile dal Comitato in difesa dei risparmiatori che infatti annuncia battaglia. Credi Agricol Cariparma che ha acquisito cassa di risparmio di Cesena con poche briciole non ha alcuna intenzione di mettere a bilancio una quota per i risarcimento dei danni. Oggi noi voteremo contro il bilancio della banca perché non viene messo a bilancio neppure un centesimo per i risarcimenti nei confronti degli unici cittadini che sono stati vessati dalle gestioni precedenti. Noi continueremo le azioni legali, abbiamo intrapreso con i nostri avvocati, assieme all'Associazione dei Consumatori, Adusbef, abbiamo cercato e continueremo a cercare delle azioni legali sia di tipo penale che di tipo civile finalizzate ad un risarcimento nei confronti di chi ha investito risparmi, soprattutto di persone anziane, risparmi e TFR in azioni che si sono rivelate appunto carta straccia.